E' durata lo spazio di un weekend la soluzione tampone che il commissario per l'emergenza ambientale ha individuato venerdì scorso per sversare i rifiuti dell'alto tirreno cosentino nella discarica di Cassano all'Oionio. Questa mattina infatti un centinaio di abitanti del luogo ha protestato e bloccato per diverse ore la via di accesso all'impianto di Contrada Silva, impedendo di fatto l'ingresso a molti degli autocompattatori giunti da Tortora, Scalea e dagli altri comuni della costa tirrenica. Dopo un lungo braccio di ferro con le istituzioni, in particolare con la prefettura di Cosenza, il blocco è stato rimosso quando ai rimostrandi è stata assicurata la convocazione di un incontro entro domani negli uffici del governo. Ma intanto il più era fatto. Solo pochi automezzi sono riusciti ad entrare nella discarica prima del blocco, e tra questi quello di Praia Mare. Invece i camion di Tortora, Scalea, San Nicolarcella e Santa Maria del Cedro hanno dovuto riportare indietro il loro prezioso carico. I sindaci dei maggiori comuni del litorale, già alle prese con l'emergenza normale, si ritrovano anche a dover gestire la sovrapproduzione di rifiuti dovuto al massiccio afflusso di turisti di queste settimane. Per questo nei giorni scorsi hanno chiesto un sito alternativo a quello di Pianopoli, che funziona a singhiozzo al servizio di larga parte della Calabria. Venerdì scorso il commissario all'emergenza dei rifiuti ha concesso l'uso della discarica di Cassano fino al 22 di agosto. Per ben due giorni, sabato e domenica, i sindaci del Tirreno hanno tirato così un sospiro di sollievo. Oggi invece la mare è costosa sorpresa, la protesta dei cittadini, e a nulla è servita la rimozione del blocco poco prima che l'impianto chiudesse le attività lavorative. I camion che non hanno fatto in tempo a scaricare questa mattina stanno rientrando in sede. Domani torneranno a Cassano per un nuovo tentativo, un nuovo viaggio della speranza, una nuova gara contro il tempo. Grazie. 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 Grazie.